ciao a tutti bentornati sul mio canale sono partita subito con questo video mettendomi in tune che è un roll on favoloso di cui non posso più fare a meno prima di registrare i video perché oggi è stata una mattinata veramente super impegnativa e di lavoro ma sono molto contenta perché finalmente sono riuscita a andare a trovare Giulia la mia amica builder che è già elite e però ci tengo tantissimo a registrare i video anche oggi perché ci sono un sacco di argomenti di cui voglio parlare con voi infatti me li sono scritti sulla mia agenda per non dimenticarmeli e in particolare è da un po' che voglio fare questo video in cui vi parlo di un'esperienza personale pazzesca che mi ha aiutato tantissimo in un momento veramente difficile allora come forse molti di voi sapranno sono in gravidanza sono sto incominciando il mio sesto mese e lo sappiamo tutti in gravidanza ci sono disturbi che possono sopraggiungere anche in persone che non avevano mai sofferto prima e farò dei video interi su questo perché è un argomento di cui davvero tengo tantissimo parlare ma volevo condividere con voi un'esperienza assurda davvero che mi è successa e in particolare poco tempo fa ho avuto questa tremenda ulcerazione sulla lingua c'è chi le chiama afte c'è chi la chiama stomatite però per me era una propria ulcerazione era veramente una sorta di cratere perdonatemi che mi faceva talmente male era talmente gonfio che non riuscivo bene a deglutire a parlare e ovviamente anche mangiare mi dava tantissimo fastidio ed è stata una tortura tremenda dunque intanto se questo è un problema familiare con voi o con qualcuno passategli questo video perché davvero sto per condividere qualcosa che sinceramente non mi aspettavo sarebbe stato così efficace come rimedio e provandolo su me stessa sono veramente felicissima di poterlo dire a voi aiutarvi in questo in questo modo dunque partiamo a dire che le afte o le stomatite o comunque tutte le ulcerazioni della mucosa della bocca sia che siano sulle gengive sia che siano sulla lingua possono dipendere da tantissimi fattori io non fumo non bevo sto molto attento all'alimentazione e quindi non credo che sia un problema di carenza di vitamine b ma queste sono le cause più frequenti che causano appunto le stomatite o possono anche essere traumi meccanici per esempio un dente appuntito oppure essersi morsi la lingua qualcosa che poi è magari ha fatto infezione un po degenerato può essere anche data da una carenza di vitamina c perché la vitamina c si rigenera insieme alle vitamine b le mucose del nostro corpo credo che sia derivante da una situazione energetica nel mio caso che volevo dire delle cose a una persona e avevo un po paura a dirgliele quindi era come se la mia lingua si fosse frenata e invece volevo davvero dirla tanto quindi il mio quinto chakra è andato un po in squilibrio questo si è si è tradotto in una lacerazione no della lingua che era una lacerazione anche interiore se dirlo o non dirlo sicuramente realizzare la causa profonda del motivo è molto utile però avevo bisogno di qualche cosa dunque come farmacista posso dirvi che il trattamento standard di questo tipo di cose consiste in anti infiammatori locali e in particolare si va di cortisone in anti dolorifici che possono essere anche fans banalmente quindi quelli da banco lo occhi eccetera nei casi più gravi addirittura antibiotici se c'è del puso delle cose e quindi comunque un trattamento piuttosto pesante in gravidanza ovviamente tutte queste cose sono altamente sconsigliate e per i vari effetti collaterali che possono dare e quindi prima di rivolgermi a non lo so a rimedi tradizionali ho pensato ho gli oli in casa quindi provo ad usarli e ho fatto vari esperimenti e in primis ho usato quello che per me è l'olio principe per tutte le infiammazioni della bocca per tutti i problemi anche di gengive che sanguinano dolore ai denti ascessi che è la miscela on guard perché avendo i chiodi di garofano che sono antidolorifici anestetici potevano avere un effetto anche antidolorifico oltre che fortemente purificante disinfettante come ben sapete non è che non avesse degli effetti però sinceramente non vedevo il beneficio che sapevo che potevo ottenere magari usando altre cose e allora ho provato semplicemente mettendo una goccia di uno e una goccia dell'altro sullo spazzolino una goccia di melaleuca e una goccia di menta di menta piperita peppermint melaleuca è il tea tree oil io vi garantisco che lavandomi i denti tre volte al giorno insomma regolarmente con un pochino di dentifricio e semplicemente con una goccia di ciascuno di questi oli in bocca immediatamente sentivo un grandissimo rinfresco un grandissimo senso di pulizia e di grande sollievo anche per il dolore l'ulcerazione si puliva e si sgonfiava immediatamente tant'è allora che ho cominciato anche a fare degli sciacqui e aggiungevo a melaleuca e menta una goccia 2 per bicchier d'acqua anche copaiba che ha un effetto rigenerante sulla pelle sulle mucose e vi posso garantire che facendo uno sciacquo al giorno magari se non avevo la possibilità di fare lo sciacquo magari anche alternandolo mettendo quegli stessi oli quindi melaleuca peppermint e copaiba su una un pezzettino di cutone idrofilo e mettendomelo un po a contatto con l'ulcerazione nel giro di due tre giorni è completamente passato e prima di rivolgermi agli oli ho aspettato magari che passasse da sé perché si sanno com'è uno prima di dire faccio qualche cosa io sono così sono estremamente pigra in realtà e poi pensavo non fosse niente di che un'altra cosa che ho fatto è stata aumentare il mio dosaggio di llv che è il lifelong vitality pack che è una bomba di nutrizione tutta naturale proveniente da frutta e verdure estratti di erbe potrei parlare per ore ma ho fatto un video specifico sull'integratore degli integratori llv quindi andate a vederlo sono passata a prendere da due capsule al giorno a quattro per una settimana o due anche dopo che è finito per essere sicura che non fosse causato da una carenza di vitamine e mi sento molto molto bene a parte la origine completa anche proprio da un punto di vista di umore ed energetico mi ha davvero molto aiutato quindi spero che possa essere utile questo video a tutti va benissimo anche usarlo nel caso dei bambini aggiungendo questi oli nel loro spazzolino facendogli fare gli sciacqui per quanto riguarda le vitamine ovviamente sono capsule quindi i bambini non le possono deglutire facilmente ma in quel caso consiglierei pb assist che sono delle bustine di probiotici che aiutano anche a la flora sia locale che intestinale e quindi la flora intestinale sapete produce naturalmente le vitamine del gruppo b ci vediamo al prossimo video grazie dell'attenzione grazie grazie